Nella trasferta a Kazaka la Germania cercherà di allungare in vetta il gruppo C di qualificazione mondiale. I tedeschi sono primi con 10 punti, tre in più della Svezia. Ma in Kazakistan la nazionale di Joachim Löw dovrà adattarsi a una superficie artificiale e così per prepararsi i tedeschi si sono allenati su un campo sintetico di Francoforte. Il vice Löw, Hans-Dieter Flick, sostiene che il fondo del campo pertanto non sarà un problema per i Panzer. Noi siamo una squadra dai piedi fini, sul sintetico dovremmo essere avvantaggiati, soprattutto nei passaggi e comunque ci siamo allenati sul sintetico e saremo pronti per la sfida, anche perché proveremo diversi moduli e diversi schemi adatti a questa superficie artificiale. Flick si dice tranquillo, ma la nuova superficie ha già ammiettuto la prima vittima. Il centrocampista del Real Madrid, Sami Chedira, infatti, ha dovuto terminare la sessione d'allenamento in anticipo per un infortunio alla Caviglia. Murigno non sarà contento, ma Flick e Löw adesso pensano al Kazakistan, che verrà affrontato venerdì a domicilio e martedì a Norimberga.